Contro il tumore al seno chiedo anch'io che ad ogni donna italiana di oggi e di domani venga garantito dal momento della diagnosi il miglior percorso di cura in centri specializzati su tutto il territorio nazionale. Contro il tumore al seno e per tutte le donne che ne soffrono chiedo qualità, qualità di cura, qualità di vita e qualità di assistenza.